Riobi Drex. Tutta l'esperienza Riobi in questo gioiello di tecnologia. La scelta migliore per i pescatori che necessitano di un molinello affidabile per la pesca in acqua dolce e in mare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Cuscinetti 4 più 1. Disponibile in ben 8 misure, dalla versione 1000 alla 8000. Riobi Drex. Per soddisfare ogni tipo di pesca. Distribuito da Tubertini. Grazie.